e benvenuti a questo nuovo video oggi siamo qui con la nuova del xus oggi giochiamo qui a minecraft nella nostra manilla il mio primo video della manilla quindi raga io quando finirò questo video lasciare quando finirà questo video voi dovreste mettere un commento devo leggere tutti i commenti e dovete consigliarmi cosa devo fare prima di tutto mi prendo il legno così posso come si dice posso già farmi la casa quindi prima guardiamoci intorno c'è una pecora che dopo l'ammazziamo quando mi sono fatto la casa anzi due pecore una bianca una marrone che è lì e basta dopo c'è qua tutto libero con un cratere che dopo ci andremo ad usare aia che volevo dire che ci prendevamo un po di materiali legno ferro carbone tutto ora ci prendiamo il legno per iniziare dopo e andiamo fai qua no e si dai qua ci sta uno due tre quattro cinque e qua uno e l'altro qua ok lo facciamo altro 3 e continuiamo tutto così ma non facciamo i vetri prima di tutto facciamo così e raga se volete mandarmi la richiesta di amicizia così giocheremo insieme potete non è che mi chiamo 2009 alizios però tutto attaccato non è staccato comunque la vedrete dopo all'inizio del video in questo video vorrei 100.000 like o 100 per il mio primo video di te raga perché è il mio primo video questo quindi vi prego ok ci stiamo prendendo altro legno non so perché dico sempre tacci 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 quindi raga se me le volete chiedere eh non ho già risposta adesso che non so come mai lo dico sempre e Magari ragazzi? No eh? Lasciamolo così, toccati. Ragazzi ovviamente sentirete un po' di rumore ai bambini che piangono perché c'ho ovviamente una vicina fatta di merda e quindi non ascoltate, se mai ascoltate la mia voce. Raga, forse porterò anche delle live per un blocco che ce l'ho qua, per culo raga, per culo. Ok. E questo è il primo pezzo fatto, dobbiamo prendere adesso altre linee per fare le porte. Non so perché ho dato, dopo le prendo. Ragazzi era un bot che non gioca Minecraft, quindi potete farmi tutte le domande, però so ancora giocare. Ovviamente non è che sono una buona. e quindi se sentite cantare è mamma. Quindi se ridete vi picco tutte. non è la vita reale. E dopo facciamo questo. Questo. Per gli angoli ci sta. Uno. No. o se no raga vi potrei anche portare di un gioco che è bello. Peraltro praticamente sarà blocco ma domani raga in questo gioco lì che avrete adesso e ve lo farò vedere. Il gioco si chiama BLOCKMAN STOCK-GO. Ovviamente ovviamente che io ce l'ho. Dovete inserire il nostro il vostro nickname e dopo tutto le varie cose no perché fatto così no perché sennò non potete ridurre ragazzi un attimo che io sono intrappolato ok possiamo scavare fino a qua ovviamente raga vi prego non insultatemi come hanno fatto uno youtuber lo youtuber che dico io adesso che l'hanno preso in giro perché l'hanno veramente insultato si chiama fancy così via adesso dovremmo casa era verso dove di qua bocce raga dove dove ho già perso la cosa raga ovviamente aspettiamo un attimo aspettate 5 6 secondi o 10 eccomi raga ho preso mi sono fatto la spalla in ferro mi sono preso mi sono fatto il piccone e del cibo dopo mi sono fatta l'armatura con tutto ferro qua c'era il muletto in casa dopo c'era tantissimo ferro mi sono fatto ovviamente adesso ci mettiamo a dormire ovviamente adesso ci mettiamo a dormire ma adesso come faccio riuscire e raga è successo un bug che non so cosa è successo ma aveva cambiato tutto tutto l'inventario poi uccidiamo quest'era no dai ok dopo perché non mi sono fatto la pala mica ah zombie sei morto davanti a me raga c'è una raga c'è una strega cosa mi hai dato? raga questo video qui finisce qui bella raga ciao a tutti